Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di cronaca giudiziaria perché domani arriveremo a sentenza per il caso di Sandro Mugnai. Lo ricorderete l'Aretino che il 5 gennaio del 2023 sparò e uccise al vicino di casa di origini albanesi che con una ruspa si era scagliato contro l'abitazione dell'Aretino per poi demolirla mentre l'uomo e la sua famiglia si trovavano all'interno. L'uomo è accusato, Mugnai è accusato di eccesso colposo di legittima difesa. Mugnai in quel 5 gennaio era a tavola con la moglie, un figlio e altri parenti. All'improvviso la casa iniziò a tremare proprio sotto i colpi di un mezzo da lavoro. In precedenza tra il vicino di casa e Mugnai pare ci fossero alcuni dissapori. Spaventato dai colpi di benna sul tetto dell'abitazione, Mugnai imbracciò la carabina regolarmente detenuta e fece fuoco. Finì appunto in tragedia. Venne arrestato con l'accusa di omicidio volontario ma poi rimesso in libertà perché il GIP Giulia Soldini reputò credibile la versione dei legali di Mugnai che sostenevano appunto la tesi della legittima difesa. Domani l'udienza si aprirà alle 10, arriveremo alla sentenza di primo grado. E adesso invece parliamo del rapporto del sole 24 ore sulla criminalità. Non sono confortanti i dati che riguardano la città di Arezzo. Arezzo è la provincia toscana a livello complessivo con la performance peggiore salendo di ben 19 posti nella classifica sulla criminalità stilata dal sole 24 ore per il 2024 gradatoria su base provinciale che ogni anno permette di scoprire quali sono le province meno sicure. A livello nazionale le denunce sono in aumento per la prima volta dal 2013 con una crescita del 3,8% rispetto all'anno precedente con particolare aumento dei reati violenti. Il capoluogo toscano sale poi di due posizioni dietro solo a Milano e Roma. Sono infatti le grandi metropoli turistiche a confermarsi le peggiori nell'indice di criminalità. Ma anche nelle prime dieci troviamo altre province toscane, Prato settima e Livorno decima. A seguire Pisa diciottesima, Grosseto ventiseiesima che precede Lucca, Massacarrare quarantaduesima, Pistoia quarantasettesima ed Arezzo al cinquantaduesimo posto con oltre 3.100 denunce ogni 100.000 abitanti. Nettamente staccata dal resto del gruppo Siena che pur ottenendo due posti in più resta settantanovesima. A livello nazionale, infine, in controtendenza rispetto ai grandi centri urbani, le province di Oristano, Potenza e Treviso risultano essere le più sicure d'Italia, posizionandosi in fondo alla classifica. Con il prossimo servizio diamo voce a cittadini e residenti di Rigutino Frazione, alle porte di Arezzo, un paese che rischia di morire. Si resiste? Si resiste, a denti stretti si resiste. Parte da Rigutino una frazione del comune di Arezzo attraversata dalla regionale 71, un grido forte e chiaro, non fate morire questo paese. Il paese ha registrato la chiusura di recente di due importanti attività, l'unico supermercato in zona è uno sportello bancario. Serrande abbassate che si aggiungono alle altre chiuse in questi anni, il rischio è che Rigutino diventi un paese dormitorio, eppure la popolazione non è diminuita. Ma no, non si è spopolato il paese, perché il paese, anzi gli abitanti sono sempre soliti, anzi probabilmente è aumentato, però probabilmente è diventato più un paese dormitorio, perché si stanno giudendo continuamente attività commerciali, e adesso prossimamente chiuderà anche la banca, e quindi vengono a mancare tutti quei servizi che sarebbero necessari per rendere più vivo il paese. Mancano le infrastrutture, dicono residenti e commercianti, l'unica che aiutava agli spostamenti interni, questo ponte, è stato demolito, ma della passerella che doveva comunque consentire il passaggio pedonale, ancora nessuna traccia. Speravo che il giorno dopo che veniva abbattuto, ci fosse questa attenzione al territorio e fosse stato ricostruito, questo è un esempio. Non si può pretendere che i parcheggi vengano fatti, e si pensa che quelli che sono alla scuola elementare o scuola media possono essere di supporto a noi commercianti. Della questione si era interessato Marco Casucci, consigliere regionale della Lega, annunciando un'interrogazione. Alla Lega chiederai invece che si occupassero di trasporti, con in testa il suo ministro Salvini. Al momento, dunque in mancanza di risposte certe da parte delle istituzioni, ai cittadini non rimane che rifarsi la bocca con la crema pasticcera della signora Giuliana. Dovrebbero aiutare i giovani a un'iniziativa di aprire altre attività, qualcosa per non farlo morire del tutto. E su questo caso intervengono anche i due consiglieri regionali del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, proprio in merito a quanto annunciato da Marco Casucci. Lega, appunto, questa interrogazione. In primo luogo, dicono i due consiglieri, è curioso vedere come un consigliere di un partito di maggioranza nel comune di Arezzo intervenga adesso, proprio quando i cittadini di Rigutino si stanno organizzando autonomamente. In una città, appunto, dove la Lega è comunque al governo ormai da otto anni. È evidente, proseguono Ceccarelli e De Robertis, che il consigliere cerca di appropriarsi di un'iniziativa partita dal basso e prendersela, in questo caso, con la Regione Toscana, che sta facendo la sua parte, anche se si tratta di aziende private, proprio per contrastare la desertificazione bancaria, che penalizza soprattutto le realtà delle aree interne. Invece di rivolgersi, concludono i due consiglieri, all'ente territoriale di prossimità, che in questo caso anche al Ministero dei Trasporti, sta ostacolando la realizzazione della stazione Medio Etruria, proprio a Rigutino. Oggi, 16 settembre, primo giorno di scuola per migliaia di studenti aretini. Noi abbiamo voluto fare un po' un focus per tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno, gli studenti appunto diversamente abili. Ebbene, abbiamo dato voce, in questo caso, all'Associazione Arezzo Autismo. Primo giorno di scuola oggi per tanti studenti aretini. Noi ci siamo chiesti, sotto il profilo della disabilità, quindi di coloro che hanno comunque bisogno di un sostegno, se ci siano stati passi in avanti o indietro. Lo abbiamo chiesto ad una mamma che fa parte dell'Associazione Arezzo Autismo. Certo, le ore di sostegno non possono coprire tutto l'orario scolastico, perlomeno non quello di tutti gli alunni. Pertanto, le soluzioni che una scuola può avere sono quelle di richiedere l'intervento di educatori esterni che sopperiscono alla mancanza di un docente di sostegno. Spesso incrociare tutte queste risorse non è facile, nemmeno per l'istituto scolastico, senza considerare il fatto che ci sono anche... bisognerebbe anche avere delle belle risorse economiche per poter supportare anche il lavoro di questi, sia educatori che di questi docenti. Docenti che adesso siamo messi un po' meglio, ma che di fatto non si trovano, o perlomeno non si trovano specializzati. Allora, negli ultimi cinque anni, e qui parliamo di un aspetto positivo, il sistema di reclutamento è molto migliorato. Appena, diciamo, qualche anno fa, a volte era difficile entrare in classe per un ragazzino che aveva bisogno del sostegno e trovare il suo docente. Si aspettavano anche una, due settimane, qualcuno arrivava addirittura un mese dopo. Adesso il sistema è cambiato, l'insegnante di sostegno viene nominato prima che inizi la scuola e sta succedendo sempre di più. Però rispetto ai numeri delle disabilità, della presenza di certificazioni nelle scuole, ancora siamo lontani ad avere una copertura di insegnanti che sono specializzati nel fare sostegno e nel essere insegnanti per l'inclusione. E proprio per i ragazzi diversamente abili, in particolar modo affetti dallo spettro autistico, c'è un importante progetto, questa volta a Marciano della Chiana. È stata proprio una mamma che a fine scuola, verso giugno, così è venuta da noi e ci ha chiesto praticamente se potevamo darle una mano a aiutare il ragazzo a prendere il pullman, che sembra una cosa così semplice, però diciamo che in questi contesti è una cosa abbastanza impegnativa. È così nato il progetto Divento Indipendente, un'iniziativa dell'amministrazione comunale di Marciano della Chiana che ha preso avvio con l'inizio dell'anno scolastico. Protagonisti due ragazzi con disturbo dello spettro autistico che potranno raggiungere in autonomia le scuole superiori di Castiglion Fiorentino utilizzando il servizio di trasporto pubblico. Siamo riusciti con un paio di associazioni di Castiglion Fiorentino, perché comunque sia questo progetto porta i ragazzi da Marciano e Scesa a Castiglion Fiorentino a scuola, quindi con il supporto della Croce Rossa italiana di Castiglion Fiorentino e della Polis di Castiglion Fiorentino siamo riusciti a organizzare questo trasporto. Quindi vediamo come va, è partito stamattina, siamo molto fiduciosi, dovrebbe rendere questi ragazzi indipendenti per dicembre, nel senso che il nostro progetto parte adesso e si concluderà a dicembre. Divento indipendente si pone così come un modello di inclusione sociale. Va ad aiutare proprio coloro che in qualche modo indipendenti non lo sono, che magari sono persone speciali, ma hanno bisogno proprio di acquisire la loro indipendenza per poter tirare fuori tutte le loro potenzialità e quindi in questo caso è di molto aiuto a coloro che ne hanno bisogno, in questo caso dei ragazzi. Parliamo di lavoro perché sono partite le procedure per l'accessione dello stabilimento FIMER, una vicenda lunghissima, un'avvertenza lunga e complicata che adesso potrebbe avere appunto la sua parola fine. Sentiamo. Avviate le procedure per l'accessione della FIMER, l'azienda di Terra Nuova a Bracciolini specializzata nella produzione di inverter attualmente in amministrazione straordinaria. A comunicarlo è la stessa azienda tramite una nota ufficiale. A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare manifestazioni di interesse per l'accessione, si legge, i commissari straordinari hanno ricevuto un forte significativo interessamento da parte di primarie società che operano sia in Italia che all'estero. I potenziali investitori valutati positivamente sono stati ammessi all'analisi due diligence della società mediante eccesso ad un'apposita virtual data room in cui sono contenute tutte le informazioni utili per la valutazione del complesso aziendale. Lo scorso 6 settembre il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha autorizzato l'avvio della procedura di vendita del complesso aziendale FIMER inviando a tutti i potenziali investitori la lettera di processo contenente termini e modalità di presentazione delle offerte vincolanti che dovranno prevenire entro e non oltre le 15 del 15 ottobre 2024. Si procederà, conclude la nota, nel rispetto del bando di gara all'aggiudicazione del compendio aziendale FIMER. Al momento, nello stabilimento valdarnese lavorano circa 260 dipendenti e il mantenimento dei livelli occupazionali spicca come uno dei presupposti centrali per la missione delle imprese interessate alla procedura. Un dispositivo per l'ipnosi medica in sperimentazione alla terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il dispositivo impiegato da due settimane appunto nell'Uti diretta dalla dottoressa Raffaella Pavani serve a ridurre proprio stress e ansia con benefici sul processo di guarigione dei pazienti. È dotato di un visore da indossare che riproduce una decina di realtà virtuali e da un paio di cuffie dalle quali ascoltare una voce registrata che aiuta la persona a rilassarsi e a distogliere così l'attenzione da ansia e dolore. Il dispositivo rimarrà in sperimentazione nel riparto per circa due mesi e nelle prossime edizioni del nostro telegiornale ve ne parleremo in maniera più approfondita. Adesso facciamo un passo indietro andiamo alla giornata di ieri domenica 15 settembre con la seconda tappa della visita in terra a retina del principe Alberto II di Monaco che è arrivato a Rondine. Visita del principe Alberto di Monaco alla cittadella della pace. Ha così proseguito il weekend a retino per il principe monegasco pellegrino per l'occasione sulle tracce della madre Grischelli. Dopo la visita al santuario della Verna in occasione dell'ottocentesimo anniversario dell'estimate di San Francesco il sovrano alla cittadella ha voluto conoscere gli studenti protagonisti del cosiddetto metodo Rondine per la risoluzione dei conflitti. Sono luoghi importantissimi e sono molto felice di avere questo invito e questa opportunità di scoprire la ringrazia del presidente Bacari tutti tutte le persone che hanno organizzato questo weekend era affascinante e emozionante a Laverna e qui alla Rondine e di vedere questo campus questo villaggio questo paese che e di vedere la metoda di Rondine per accogliere e creare questo dialogo tra i studenti per una visione di pace per una cultura di pace veramente fantastica. dal 2015 il Principato di Monaco sostiene e sponsorizza le iniziative di Rondine anche supportando tre ragazzi e già da tempo aderito all'appello Leader for Peace quindi con il Principe noi speriamo di avere un passo in più un alleato in più lui è molto impegnato nei temi dell'ambiente e anche della pace e penso che scoprendo dal vivo toccando con vivo Rondine i giovani che si formano qui quotidianamente la concretezza di Rondine possiamo aprire nuovi progetti per poter cercare di incidere di più e far venire questa pace che tutti attendiamo E sempre ieri in Valtiberina l'assegnazione del quarantesimo premio Pieve La memoria di Albertina era chiusa coerentemente tra due nascite la sua avvenuta nel 1937 e quella della figlia Irene venuta al mondo nel 1972 Nell'arco di questi 35 anni si svolge un'esistenza comune quotidiana fatta di eventi minuti a volte dolorosi che possiedono però un minimo comune denominatore non dissimile da quello di Maria Rossi il desiderio la volontà la necessità del riscatto è Albertina Castellazzi la vincitrice del premio Pieve Saverio Tutino 2024 con il testo Fendevo l'aria memoria 1937 1972 a ritirare il premio la figlia Irene Rubin speriamo che Albertina riceva questo premio anche lei con gioia il diario racconta la guerra fuori e dentro di sé ma anche una battaglia vinta quella per l'emancipazione è riuscita e ha dimostrato di avere la capacità di emanciparsi di realizzarsi e questo è un qualcosa che mi ha sempre segnato per tutta la mia crescita la premiazione come sempre a Pieve Santo Stefano dove ha sede l'archivio dei diari 8 i finalisti che hanno proposto storie di guerra donna alla ricerca di riscatto e di libertà la giuria infine ha deciso di assegnare una menzione speciale ad un'altra autobiografia ricordi di un nomade di Giovanni Stefanolo il racconto picaresco appunto di una vita in perenne movimento e non vi leggo il resto siamo allo sport tornano vittoriose dall'ultimo incontro le ragazze dell'Arezzo calcio femminile hanno vinto per 1 a 0 le ragazze di Ilaria Leoni ad Avellino contro la neopromossa Vis Mediterranea decisivo un rigore dell'Amaranto Corazzi a 10 minuti dalla fine tornata in azione anche la capitana Razzolini che era rimasta lontano dal campo per le prime due partite della stagione l'episodio decisivo dunque al 79 a Samoa va escivolata per bloccare la cavalcata di Carcassi ma entra male e travolge la numero 7 Amaranto un gol su rigore che ha fruttato per le Amaranto tre punti pesanti è una partita tosta impegnativa faccio anche complimenti alla squadra avversaria perché ci ha messo in grandi fiolta è stato anche un gran potiere che abbiamo trovato però sono veramente contenta della nostra prestazione perché siamo riusciti a portare a casa questi tre punti in un campo non facile dove comunque chiedevano tutti gli spazi perché si erano messi tutti dietro e quindi siamo riusciti poi a sbloccarla in specchio di ripura di alzio e quindi sono veramente contenta di messerla Sì siamo molto contenta della nostra prestazione perché comunque sapevamo era una tattica molto difficile loro si danno tutto dietro è un campo molto piccolo avevamo affinandato la palla avevamo impazienza primo tempo abbiamo avuto un'occasione purtroppo non sono andate in rete ma si è rientrata nel secondo tempo con un'ora più quinta la bianca di tre lì e alla fine per fortuna ma in realtà per merito arrivano in regore poi in gol sono molto contenta di avere il primo gol ma sono sempre senza nulla ed infine parliamo di basket seconda amichevole per la bc servizi che sul campo del ponte San Giovanni ha affrontato il basket val di ceppo dopo un inizio dove i padroni di casa sono stati bravi a mantenere alte percentuali di realizzazione nella seconda parte di gare è arrivata la reazione degli amaranto che sono riusciti a giocare con un ritmo più alto sia in attacco che in difesa adesso per la bc servizi due impegni programmati al palaestra per chiudere la preparazione precampionato mercoledì 18 alle 20 e 30 i ragazzi di fioravanti affronteranno il duches sansepolcro mentre sabato 21 sempre in questo caso alle 17 e 30 gli amaranto affronteranno la pallacanestro palestrina è tutto per questa edizione del nostro telegiornale io vi lascio però non cambiate canale con la prima puntata della seconda edizione della nostra trasmissione fattore di storie di donne questa sera ospiteremo un ingegnere cristiana tenti buona visione allora grazie arrivederci a Grazie a tutti.